Sì, che bravo, lì. Ora è il 9-6. Rosano, sai che il Landino era portiere? No. Solo che non ci vedo più bene. In questo caso non lo può fare tutto. Adesso troppo... La più forte è la portiere. giusto giusto una versa clamorosa di Giuliano un giusto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.